... e la fiotera di Danielea mangiava glioni per la coda li girava due o tre volte così poi tutti schizzi per l'onarburo io c'ho un boccano non lo so a comprare allora ma che si fa? ma dai a nocio la parte date la smossa o se è al petto un fuori ma che si fa qui? il gloria è per fare pure brutta figura questa ma che è una volta ma io voglio quel cazzo come fa che il cazzo ci fa un boccano io l'ho detto la lira voglio la lira non c'è c'è l'euro e quello non so al solare e poi c'è l'euro e quello non so al solare se ti fa la cosa se ti fa la cosa andatele se non dopo non contesta andatele te faccio mangiare dai calori a te capito? grazie a tutti Grazie a tutti